Ciao a tutti, stiamo andando in Croazia, adesso siamo in Slovenia, ecco, siamo a Katlie, siamo a Katlie, siamo a Katlie, Katlie, e abbiamo un po' di più, ecco, e poi abbiamo il check-in alle 17. Ciao a tutti ragazzi, siamo in Croazia, siamo in Croazia comunque, adesso andiamo a mangiare a McDonald's, andiamo a McDonald's a mangiare, e poi dobbiamo ancora prendere il traghetto comunque, cioè non siamo ancora a Pag, perché ne andiamo a Pag, come avete già visto nel video adesso, c'è una fila, cioè c'era un traffico tremendo, possiamo ancora un bel po' per arrivare, quindi un 4 orette saremo a destinazione, 4 orette? Ma che stai? No, 4 ore Leila, sai? No, 4 ore, 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 sai Ciao a tutti ragazzi, siamo appena arrivati a Pug con il traghetto e tra un po' andiamo al villaggio, tra un po' qua c'è un vento tremendo infatti non riuscivamo neanche a registrare perché io avevo in braccio bog e stavamo cadendo Ciao siamo arrivati nella nostra casetta, è tutta in legno, è carinissima, siamo il numero 33 e comunque è una figata qua, casette unite tra, mega vicine tra loro, un villaggio no? E' stra bello, per esempio possiamo sederci qua, bisogna mangiare, giocare a carta, a viscola qua dentro, apriamo e si entra, allora qua c'è la cucina, il frigo, la roba, un tavolino, 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 e abbiamo già ordinato, guardate tutti i nostri vestitini, lascio mostrare i miei, questo è il suo letto, questo è il mio, e poi venite qua, seguitemi, faccio con me, sai quelle cose di MTV, che muovono le case, no io non voglio essere filmato eh, ma non sei filmato tu qua, tranquillo, perché non vuole, possiamo vedere? E comunque questa è la magnifica stanza dei miei genitori, è come se possono vedere le case a Team Crips, no? E' un programma di MTV, dove sono le case mega da lusso, e io faccio la, 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 la speaker che illustra la, e insomma, che si tratta l'idea, no? Bello, ti hai visto? No, iniziamo. Non ci ha? No? No. 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 Allora, cosa stiamo facendo? Siamo venuti a vedere la spiaggia, com'è? È molto bella. C'è una cosa stupenda, veramente. C'è assurdo. Non vedo l'ora che sia domani per tuffarmi in acqua perché vorrei tuffarmi in gialletto. Solo che fa un po' freddino. E ci sono tipo i cosetti da far cercare. Sì, non si vede. Vieni qua. Ma quella riflessa è un po' così che è più figa, col mare dietro. Così. Guarda che bella quella cosa. Ciao a tutti e noi siamo a casa, cioè qua. C'è la mamma. Saluta mamma. Ciao. E praticamente abbiamo mangiato qualcosa lì. Ho mangiato una pannocchia, molto buona, e la crepe con la banana e la nutella che era buonissima. Buonas noces. Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi. Siamo qua per il secondo giorno in Croazia. Cioè alla fine il primo. Boh, questo è il primo, sì. Abbiamo appena fatto il bagno, come vedete siamo anche bagnati. e l'acqua è una cosa, cioè, è stupenda, è bellona, solo che è gelatissima. E c'è un sacco di vento. C'è un sacco di vento. È una cosa improponibile, veramente. Le raccontate a pensare di questo fantastico mare? Che se mi arriva una pigna in testa moriamo. Infatti, guardate, abbiamo. Aspettate un attimo se si vede. Andiamo tipo, guarda lei, la panna è un po' più, 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 più. Ciao, ciao a tutti. Stiamo andando a Pag, però c'entra. E siamo stati al mare. C'era tanto tanto vento. Troppo vento. Esatto. Abbiamo fatto la doccia, adesso andiamo a farci un giro là in centro. E a mangiare, ovviamente. Sì. Di qualcosa. Allora ragazzi, siamo a Pag, in pieno centro. Devo dire che il prima è mite. Vai avanti intanto. Eh? Il liquido si abbassa. Il liquido si abbassa. Domani si abbassa. E speriamo di fare un bagno, diciamo, come si deve, no? Senza aver problemi del freddo, del congelamento. Quindi speriamo che domani sia tutto in normalità, no? Oh no. No, no, no. Ma porca vecchia, che male l'unghia Ciao a tutti! Quale il bongo? Mamma mia, mi sono sbattato a fare un'unghia Ciao, sono le 11 qualcosa Nel nostro campeggio è già chiuso tutto Ah, luce! Il nostro campeggio è già chiuso tutto e non si può fare niente Quindi noi siamo a casa Quello lì è lo scooterino che hanno alleggiato mio papà Che io non ci so andare, mi stavo schiantando Questa è la finestra della mia camera e di Pedro E questo qua è tutto buio Quello è lo stendino E quello è il moccio Poi c'è mia mamma, qua Vi prego, osservate la faccia di mia mamma Di notte che ci vediamo domani Buonanotte ragazzi, a domani Notte, notte, notte Ciao, siamo appena tornati dal mare Vi volevo avvisare di questo perché ci siamo dimenticati di fare altri video Ehm... Sono un po' rossa Carina E... Però non so che sto facendo il vlog Perché forse la doccia fra un po' Vado anch'io a farmi la doccia Non vedo l'ora perché ho caldo Voglio rinfrescarmi E dopo andiamo a mangiare la pizza Cioè, mangiamo la pizza a casa E poi andiamo giù lì Nel post Andiamo a prendere gelato Molto easy E facciamo qualche partitina Della sala giochi A caso E niente, ci vediamo dopo Ciao a tutti ragazzi E adesso Stiamo aspettando i miei Che si stanno preparando Ok Adesso andiamo... Parlo io Parlo io Parlo io Adesso andiamo giù Che ci sarà una festa diciamo Allora, vi volevamo avvisare che avevamo deciso di fare una cosa, ovvero di dividere il vlog nei due canali, ovvero i primi tre giorni sul mio canale E gli ultimi quattro giorni sul canale nostro di Leila e Pedro E niente, abbiamo scelto anche di farlo in due modi diversi, ovvero il primo è tutto col telefono e il secondo sul canale nostro, lo faremo tutto con la GoPro E niente E niente Vi faremo il video sotto acqua Esatto Molto molto carini Esatto E niente, dobbiamo dire ancora qualcosa Andate nel nostro canale per la seconda parte E speriamo che il primo pezzo di video Di vlog vi sia piaciuto E vi mandiamo un bacione E ci vediamo al prossimo vlog Ciao Ciao a tutti Buonanotte Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti